Che parola che c'è stato assoluto di tutto? Qui il giovane ha detto che il regolino separatore non ha messo niente. Allora che cosa è successo? Quelle scoglie delle nuove figure, il regolino separatore e il regolino Giuseppe, c'è stata una... la anticipazione di tante persone. Non mi viene però avesse il termine giusto. Vabbè, che cosa è? Che veniamo a prestare? Se poi sei indagato, chi sono stati a fare l'estate? Il fratello italiano? Che era l'ultimo errore, e successivamente perchè è l'administrazione. I carabinieri fanno amicizia, non so come è nato, ero parente, di una donna che stava con Spadalo Salvatore. e Spadalo Salvatore che, confedandosi con Canella Cristoporo, che su Canella diceva non so che saprò dove ero io tutta questa situazione. Ma che cosa succede? Se succede che... ... 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 che è andato e stato con me, è stato usato come... non lo sapeva, è stato coinvolto senza averlo, che non doveva portare da me. Allora, hanno... si sono inventati, si sono inventati la proprietà, perché il figlio giocava bene a pallone, tramite persone hanno avvicinato il signor D'Agostino Giuseppe, di fare giocare il suo figlio di Milano. Più le confidenze che questo spadaro raccontava a questa ragazza, che era due ragazze, questa ragazza, loro che hanno fatto? Hanno creato di fare venire, che è stata la prima volta che D'Agostino Giuseppe veniva a Milano a Giovanni e questo sventisce Garofalo, Garofalo l'ha detto, si Garofalo se non è, si Garofalo a Giovanni, ha riferito che... come si chiama? Tonino Giuliano gli aveva confidato che D'Agostino Giuseppe portava la nostra, la tutanza, la tutanza di Gabriele Giuseppe e Cavalano, quindi che non aveva detto, è stata una volta. Allora che cosa è successo? È successo che d'accordo con quelli che dovevano fare Cavino di Milano che interessava che toglievano queste due figure di mezzo, in giro, è accusato di usare pesante. D'accordo per quel contorno che gli interessava che noi arrivavamo tolti dalla via, e quindi anche Spatuzza, perché se io Pocanz continuavo, vi dicevo che Spatuzza non è vero che mi dici che sono stato io a dire che al suo frattetto non ci sono con noi, perché quando io non c'è già niente in questa situazione del suo frattetto, del suo frattetto. Pocanz continuavo. Allora io le sto dicendo, se c'è la pennella del, neanche una verità su come sono andato di fare quelli che mi hanno interessato, e tutte le persone, e le persone che ho detto Cavalano, anche D'Agostino, Giuseppe, che l'ha invitato a partecipare a fare il provino di Milano, e la società di Milano, lo scoprimento chi sono quei dipendenti. Anche perché io poi dentro di caccia ho avuto già delle persone che mi hanno raccontato che imprenditori di Milano ma niente che mi interessava che non si fermassero le stagge, invece c'era in quel periodo in quel periodo c'era un ministro degli indenni che cercava un accordo e già con loro politico si sono coinvolte le persone di Enna, queste persone di fermare le stagge, quindi interessava eliminare questo ministro di quell'epoca. I signori di Napoli gli hanno detto, gli hanno risposto che loro non potevano fare questa situazione e si sono inventati che si era vendito calma e fede ed erano lì invaso di politica per venire. Posso intervenire Graviano? Sì, facciate. Perché io la sento, la capisco, però il collegamento a distanza con quei fogli che non so che cosa sia, questo continuo rumore di fogli che si muovono, vorrei che fosse inteso fino in fondo. Quindi lei ha detto che c'era un imprenditore di Milano, degli imprenditori di Milano che avevano interesse a che le stragi non si fermassero? Di quello che mi è stato riferito successivamente nel corso dopo la mia detenzione. Da chi? Da chi? Sì. Allora, questo si rince anche dall'intensazione che io ho avuto con il signor Adinor Fiumberto. Sì. E questo lo so benissimo. E questo lo so benissimo. Allora io vi chiedo una gentilezza. Prego. Quale è il signor? Vi chiedo una gentilezza. Non vedete. Dica, dica. Posso? Sì. Sì, vado. E io vi chiedo una gentilezza. Allora, se io ho avuto della confidenza e del confidore mio che in questo caso il signor Adinor Fiumberto, io non posso poi pubblicamente continuare a riprendere questi nomi perché non mi sembra corretto. perché la persona che non è ripetente, io ho un atto, rispetto le confidenze che ho, ma finché lo racconto a un amico e so che mi posso prendere la responsabilità di farlo. Però liberiamo. Capisco la sua esigenza. A me interessava capire se lei non vuole in questa sede rivelare l'identità di questo soggetto se stiamo parlando di un altro detenuto o se stiamo parlando di un soggetto diverso che lei ha incontrato in carcere. No, le persone che erano fuori, le persone che si vince dalle intercettazioni. Però a me non fate dire il nome pubblicamente perché io non riferisco a nessun nome. Lascio un nome. Graviano, le intercettazioni le conosciamo bene e adesso arriveremo alle intercettazioni. Lei ha appena detto che le è stato riferito da una persona che c'erano degli imprenditori di Milano che volevano che le stragi non si fermassero. E mi pare di aver capito che lei questo lo ha preso in carcere. Sì. Lo ha preso da un altro detenuto o da persone diverse che per varie ragioni frequentano in carcere? Da un altro detenuto. E un siciliano questo detenuto? Ma anche ho detto di Napoli perché avevano chiesto di eliminare questo ministro dall'allora affinché non intervenisse per fermare questa situazione. Perché questo ministro, con suo chiamami figlio Giorgio, si era rivolto a persone siciliane, non politiche, si era rivolte a persone di Enna. Sì. Le persone di Enna hanno risposto noi non ne sappiamo niente, adesso ci informeremo. però, o sarà positivo, o sarà negativo, voi ci dovete promettere che a Enna, essendoci la pista sull'acqua di Ragusa, portatele qua. Le gare di ferma da 1, in Italia invece se chissà di 1, portatene 2. E la pista di Ragusa bisognava dare qualche giussatina, qualche sistemazione per poter ospitare anche la forza. colpola 1, perché non era tolta questa. E in più di aprire un grande centro commerciale, commerciale, in quelle zone ad Agile, in quelle zone che ricadono in Enna, per fare svegliare questa città, perché è piccolina e prenderà sul centro qualche cosa di questo. Mi pare che un centro commerciale ci sia. Non lo so, io non so, io le sto dicendo quello che hai visto, su se c'era prima del 92, 96. No, no, in epoca successiva. E in un canale io non so. Assolutamente, io le sto riferendo a quello che mi hanno detto, io non so se ha retta o quello che mi hanno detto. Non ci ha detto una cosa importante, cioè quando le viene fatta questa confidenza? Mi ha detto una caccia di Spoleto. Beh, ma non mi ha detto quale. Mi ha detto tutte. Non ho qui il suo scientifico interno di detenzione. Se lei mi aiuta in questo momento, mi interessa sapere quando e quale anno. Io le sto dicendo, nella seconda detenzione che ho fatto a Spoleto, che va dal 2006 al 2007. Benissimo. Io le sto spiegando. Si. Poi io non so se il centro commerciale sarà prima del 92, prima del 91. Io questa storia non la so. Bene. Perché se non... A me non interessa. Io sto dicendo che io sto cercando, sto cercando dove possa arrivare perché ho il menino. Poi è la realtà sua. Poi è proprio che io, una volta, devo dimostrare che non c'entro niente. E' ancora il mio fratello Filippo, che è quello con qua. Un po' scettolo dall'occhio. Che cosa succede? E queste persone dicono, adesso noi ci informiamo con tutti. Se il corpo non è a conoscenza. Cosa. Cosa.